Quando torniamo vado, io vado a fare un giro. Vado a fare un giro. Allora un saluto ai ragazzi, ai fans di F90, questo canale fatto con passione e siamo qui a Monte Carlo a questo bellissimo show, insieme a tante fantastiche auto e speriamo che arrivi tutte queste immagini a voi. Un saluto, ciao!